Siamo nella Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma per la riunione di preghiera e vogliamo leggere insieme la parola di Dio. Giosuè, capitolo 1, dal versetto 1. Gloria al Signore. Ripeto, Giosuè 1, 1. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse «Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, «Fino al Gran Fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti fino al Mar Grande, verso Occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». «Sì forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sì forte e molto coraggioso, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha dato. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai». «Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». «Non te l'ho io comandato?» «Sì forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai». «Il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai». Giosuè aveva davanti a sé una sfida. Doveva conquistare la terra promessa. Abbiamo letto che Mosè non c'era più e ora il testimone era passato a Giosuè ed egli doveva fare affidamento sul Signore, così come aveva fatto il suo predecessore, Mosè. E così come Dio era stato con Mosè, sarebbe rimasto con Giosuè. E lo stesso Dio è con noi. E' vero, noi, a differenza di quello che ha fatto Mosè, a differenza di quello che ha fatto Giosuè, ci troviamo a vivere situazioni diverse. Ma in realtà, da un punto di vista spirituale, anche noi dobbiamo fare delle conquiste. Vogliamo conquistare le promesse di Dio. Vogliamo realizzare ciò che il Signore, il Padre Celeste, ha provveduto nel suo figliuolo, in Gesù, il nostro Salvatore. Quante promesse il Signore ha fatto a ciascuno di noi. Questa sera siamo qui. Il Signore vuole salvare chi ancora non è salvato. Vuole battezzare nello Spirito Santo. Vuole riempire di Spirito Santo. Vuole guarire, vuole liberare, vuole fare, insomma, meraviglie su meraviglie per ciascuno di noi. E il Signore, qui a Giosuè, dà una garanzia. Una garanzia che riguarda anche noi, fratelli e sorelle. Nessuno, dice il versetto 5, ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Queste parole, che abbiamo riletto, le troviamo anche nell'Epistola agli ebrei. Il Signore al suo popolo rivolge questa promessa. Sappiamo anche che Gesù, ai suoi discepoli, disse che sarebbe rimasto con loro, quindi con noi, perché noi siamo seguaci di Gesù, fino alla fine dell'età presente. La garanzia che noi abbiamo da parte del Signore è la sua presenza. Ci basti la sua presenza. Chissà, forse Giosuè ricordava quando Dio disse a Mosè che non avrebbe più accompagnato il popolo di Israele e Mosè disse al Signore Signore, se la tua presenza non viene con noi, non ci fare neanche partire da questo luogo. La garanzia per la tua vita, in qualsiasi situazione tu ti trovi, qualsiasi sfida ci sia davanti a te, è la presenza del Signore. Notate, troviamo tre aspetti di quella che è la presenza di Dio con te, con noi. Sarò con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sono tre aspetti della stessa promessa, della stessa garanzia. Prima di tutto dice sarò con te. È certa questa parola. Perché? Perché è Dio stesso che ce la fa. E fedele è colui che ha fatto le promesse. Il Signore, attraverso la sua parola, ci promette, ci garantisce la sua promessa, la sua presenza. Fratelli e sorelle, noi non crediamo alla presenza del Signore perché proviamo qualcosa di particolare nel nostro cuore, perché abbiamo delle convinzioni forti nella nostra mente, perché proviamo delle emozioni particolari, ma dal fatto che la promessa si poggia sul fatto che il Signore ce lo dice con la sua parola. La promessa è scritta. La garanzia è la parola di Dio. Ti basti questo. Il Signore sarà con te. Gloria a Dio. Alleluia. È una promessa sicura. È una promessa che il Signore garantisce. Sicura perché provata, dimostrata. Sarò con te. Se il Signore non fosse stato con Giosuè, Giosuè avrebbe potuto dire in qualche occasione Signore, perché non sei stato con me? Tu me l'avevi promesso, ma ora tu non sei con me. Invece, nella pratica, Giosuè realizzò la presenza del Signore. La presenza di Dio è qualcosa di straordinario. Non diamo per scontato il fatto che il Signore sia con noi e con noi quindi tutto va bene. Consideriamo sempre che la sua presenza è con noi. Non lo dimenticare mai. Perché a volte i dubbi, le circostanze avverse, le debolezze umane, l'accanimento dei nemici, le insidie delle avversità, potrebbero farci quasi dubitare della presenza del Signore con noi. Egli è con te. Anche se in questo momento stai vivendo un momento, un tempo particolare della tua vita. La presenza del Signore è personale. Egli personalmente è con te. Ed è personale perché Lui è proprio con te. Gloria a Dio. Sarò con te. Notate com'è semplice, lapidaria e precisa la promessa del Signore. Che cosa ti necessita? Chiedilo al Signore. Egli è con te. Quando noi abbiamo il Signore, abbiamo colui che opera. Abbiamo colui che fa meraviglie. Abbiamo colui che opera prodigi. Abbiamo un altro aspetto della promessa della presenza di Dio con noi. con te. Non ti lascerò. Perché sapete, il Signore può essere con qualcuno e finché Egli è con chi spera in Lui, ma poi questa presenza può venire a mancare. Dio può anche lasciare. Ma qui dice non ti lascerò. Lasciare è un termine molto bello. E il Signore usa un vocabolo così chiaro, così preciso. Dice non ti lascerò. Lasciare significa smettere di tenere. Smettere di afferrare. Il Signore sta dicendo io non smetterò di tenerti tra le mie mani. Io non smetterò di tenerti nel mio cuore. Io non smetterò di averti davanti e di avere il mio sguardo su di te. Non smette di tenere la tua vita tra le sue mani. Gloria a Dio. Non è una garanzia straordinaria, fratelli e sorelle, sapere che il Signore Gesù ci tiene nelle sue mani di quale sommo pastore. Infatti dice anche una cosa Gesù proprio al riguardo. Nessuno le rapirà dalla mia mano le mie pecore. Egli ci tiene nelle sue mani. Non smette di tenerci. Lasciare significa anche smettere di stringere, allentare la presa. Il Signore non smette di stringerci a sé. Non smette di stringerci tra le sue nelle sue mani. Lasciare significa anche smettere di reggere, di sorreggere, di supportare, di portare. Il Signore non smette di reggere la tua vita. Non smette di sostenere la tua vita. C'è un'immagine molto bella che leggiamo nel libro del Cantico dei Cantici. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Parla della Chiesa, della sposa e l'amico suo è Cristo Gesù, il Signore. Il deserto, l'ambiente nel quale noi ci troviamo. Un ambiente ostile in tutti i sensi fratelli e sorelle da un punto di vista spirituale, da un punto di vista anche tante volte fisico, viviamo situazioni molto difficili dove c'è arredità, dove c'è sofferenza, dove c'è solitudine, ma gloria a Dio noi non siamo soli perché il Signore è con noi ed Egli ci sostiene. Questa sera appoggiati sul tuo Salvatore Signore è Cristo Gesù. Egli è con te e ti garantisce che non ti lascerà gloria a Dio. Lasciare significa anche smettere di premere, smettere di avere la mano sopra. Il Signore non smette, non allenta la presa, continua ad avere la sua mano su di noi. C'è un'espressione che tante volte nella scrittura leggiamo e passa quasi in secondo piano, ma è un'espressione bellissima. È Dio che parla in più circostanze con delle varianti in questa espressione, ma il significato è quello. Su di te c'è la mia mano, la mano di Dio è su di te, sul tuo capo è poggiata la mano del Signore. Che bello! Questo ci dà quel senso di sicurezza. Credo che è capitato qualche volta al padre, a un padre di accompagnare un figlio e magari tenerlo per mano, poi a un certo punto magari lasciare la mano, però vedere il figlio che magari sta facendo e prendere il capo. È come a dire ti proteggo in questo modo. Non è un'azione per fare del male, ma per proteggere, per guidare, per aiutare, per dare sicurezza. Sì, Signore, continua a tenere la Tua mano sulla nostra vita. Egli non ci lascia. lasciare. Lasciare significa non prendere più con sé. Non tenere più con sé. Il Signore non ci lascia, quindi vuol dire che ci tiene con sé, ci prende con sé. Lasciare significa allontanarsi, separarsi. il Signore non si allontana, il Signore non si separa da noi. Gloria a Dio. Ma abbiamo un terzo aspetto della presenza di Dio con noi. Non ti abbandonerò. Il Signore è con noi, il Signore non ci lascia, ma ancora il Signore non ci abbandona. Cosa vuol dire abbandonare? Lasciare definitivamente. lasciare per sempre. Questo vuol dire abbandonare, chiudere definitivamente. Che bello quello che dice l'Apostolo Paolo al riguardo. Se noi siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Il Signore non ci abbandona definitivamente. E Geremia lo sapeva molto bene perché lui viveva delle situazioni molto difficili nel suo servizio profetico. Aveva ricevuto tante cattiverie, tante ingiustizie, tanti maltrattamenti. Però poteva dire una cosa con piena convinzione di fede. È una grazia dell'Eterno se non siamo stati interamente distrutti perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina grande e la sua fedeltà. Gli uomini possono lasciarci, gli uomini possono abbandonarci, gli uomini possono deluderci, Dio no! Gloria al Signore! Egli non ci lascia, non ci abbandona. abbandonare significa anche smettere di fare qualcosa, smettere di occuparsi di qualcuno, abbandonare. Dio non ci abbandona, non smette di operare nei nostri confronti. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porta a termine. la porta a termine. Perché il Signore porta a termine cari in Cristo la sua opera nella nostra vita? Quell'opera buona. Perché Dio non fa mai le cose, non lascia mai le cose a metà. Credo che nessuno si offenda se dico una cosa. La dico prima di tutto per me. Dio per quanto riguarda la mia vita avrebbe tanti motivi per smettere di portare avanti la sua opera verso di me. per il mio bene. Ma io voglio dire questa sera Signore grazie perché sebbene tu abbia tanti motivi per smettere di farmi del bene di operare nella mia vita di interrompere quell'opera buona che è iniziato nella mia vita non lo fai non lo fai non per quello che sono io ma per quello che sei tu gloria a Dio egli è misericordioso benigno lento all'ira e di grande benignità non smetterà la sua opera nella tua vita perché anche quando il vaso che egli fa chi lo dice ancora Geremia si guasta nelle sue mani egli dà capo riprende quell'argilla mette mani in quell'argilla e continua la sua opera gloria a Dio egli non ti abbandona e dice ancora la scrittura non abbandona l'opera delle sue mani abbandonare significa anche lasciare cadere allentare la presa egli non allenta la presa egli non ci lascia cadere pensate fratelli e sorelle cosa ne sarebbe di noi se Dio ci abbandonasse se Dio ci abbandonasse a noi stessi se Dio ci abbandonasse in balia delle circostanze se Dio ci abbandonasse in questo mondo così difficile nel quale la vita senza il Signore è veramente brutta e difficile ma egli non ci abbandona la nostra certezza deriva dal fatto che il Signore non ci abbandonerà terrà la presa non ti lascerà cadere la garanzia per la tua vita è la presenza di Dio con te io sarò con te io non ti lascerò io non ti abbandonerò avete notato come parla personalmente a ciascuno di noi il Signore e allora se il Signore dice questa sera a te e a me io non ti lascerò io sarò con te io non ti lascerò io non ti abbandonerò noi vogliamo unirci all'Apostolo Paolo e dire se Dio è con noi chi sarà contro di noi vogliamo alzarci fratelli e sorelle